Oroscopo del giorno, mercoledì 18 dicembre 2019 Ariete Amore, buona la mattinata e il primo pomeriggio. La serata potrà riservarvi dei momenti di relax assoluto in compagnia della dolce metà. Approfittatene per regalarvi momenti di pace e serenità. I single potranno trascorrere una serata indimenticabile con gli amici. Lavoro I pianeti sono ben disposti e potrebbero garantirvi fortuna e soddisfazione. Tante le occasioni da prendere al volo. Toro Amore Buone occasioni per rimediare a qualche piccolo errore del passato. Un chiarimento potrebbe salvare un rapporto, ma siate aperti ad ogni soluzione. Se siete single, non indugiate con il pensiero su una persona che non vi merita di certo. Lavoro Oggi dovrete rivedere il vostro modo di rapportarvi con il partner. Siate meno intransigenti e meno rigidi, pronti a mettervi in gioco. I cuori solitari che stanno attraversando un momento difficile dovranno avere pazienza e attendere tempi migliori. Lavoro I progetti che avete iniziato spesso vi impediscono di staccare anche nel weekend, ma avete bisogno di una pausa. Cancro Amore Litigi e gelosie potranno rendere pesante questa giornata. Se non avete fatto nulla di grave, tutto potrà sistemarsi, ma in caso contrario avrete delle conseguenze. I single potranno consolidare un'amicizia e magari trasformarla in qualcosa di più intenso. Lavoro Lavoro Ambizione e grinta oggi vi aiuteranno a tenere testa a chi vuole farvi cambiare idea su un progetto. Leone Amore La giornata inizia con qualche contrattempo che vi infastidirà non poco. Oggi metterete al primo posto casa e famiglia e anche se non sarete liberi di scegliere vi adatterete. Sensazioni insolite in arrivo per molti single, presto potrebbero esserci belle novità. Lavoro Marte e Giove sembrano incrociarsi generando un flusso positivo. Avrete inventiva e intuito sugli affari. Vergine Amore In arrivo riconciliazioni, ma anche passioni impreviste che sconvolgono la routine quotidiana. Difficile riprendere il controllo, ci riuscirete solo se siete veramente interessati. L'oroscopo invita i single ad uscire e a frequentare gli amici. Lavoro Ci saranno cambiamenti nella sfera professionale che potranno portarvi a raggiungere traguardi inaspettati. Bilancia Amore Ci sono ottime speranze che il rapporto con il vostro partner migliori. Tuttavia, tenete presente che dovrete fare la vostra parte e impegnarvi affinché tutto proceda per il verso giusto. I single dovranno cercare di essere più riservati sui fatti privati. Lavoro Anche se nei giorni passati avete temuto di non farcela, oggi sarete felici dei risultati raggiunti. Scorpione Amore In amore, venere offre buone opportunità di riparare incomprensioni nelle coppie e di rinsaldare le unioni. Chiarimenti in vista per chi ha affrontato una crisi. La luna consiglia anche ai single di prendersi del tempo per riflettere sull'amore. Lavoro Giornata elettrizzante per molti del segno. Giove influenza ogni iniziativa promettendo aiuti importanti. Sagittario Amore Armatevi di pazienza per superare questo momento. Con la buona volontà e con l'aiuto della persona amata potrete farcela. Ascoltate anche qualche consiglio da chi vi vuole bene. Se siete single, non attendete che siano gli altri a fare il primo passo. Lavoro La luna cercherà di contrastare l'influsso positivo di Giove. Agite dunque con buon senso per cercare di raccogliere i frutti. Capricorno Amore Oggi sarete in preda alle emozioni, ma con l'influsso di Venere sarete portati a fare sentire tutta la vostra appassionalità e ardore. Per chi è single ci saranno momenti intensi e profondi, ma siate prudenti. Lavoro Non perdete tempo con cose frivole e siate concreti oggi in tutto quello che fate. Portate avanti i progetti e idee ben programmati. Acquario Amore Se avevate dubbi sulla persona che avete accanto, oggi dovrete ricredervi. Il suo affetto e la sua vicinanza dimostrano tutto il contrario. Anche i single potrebbero avere fatto un giudizio affrettato su una persona, ma c'è tempo per recuperare. Lavoro Non trascurate oggi i vostri impegni e doveri e fate tutto con determinazione. La grinta non vi mancherà grazie a Marte. Pesci Amore Giornata ricca di soddisfazioni sia nella sfera amorosa che in quella lavorativa. Sarete presi da questioni familiari che risolverete grazie al vostro charm e la vostra disponibilità. I single potranno godersi invece una giornata di assoluto relax. Lavoro Periodo denso di impegni. Non vi lamentate perché fanno parte del percorso che avete intrapreso. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. iscriviti al canale Grazie a tutti.